Negli ultimi 10 anni in Italia la vita media ha aumentata del 2,4 anni per gli uomini e 1,7 anni per le donne ed oggi gli italiani sono tra i più longevi del mondo con una vita media che ha raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le donne. Il segreto? Secondo la Coldiret è legato al consumo di frutta, verdura e vino rosso, tante vitamine, sali minerali e antiossidanti. Numerosi studi infatti sostiene l'associazione dei coltivatori hanno certificato che la dieta mediterranea è uno dei fattori principali che garantisce ai cittadini italiani una vita più lunga. Pane, pasta, pesce, frutta, verdura extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari si sono dimostrati il vero elisir di lunga vita. Almeno stando alle dichiarazioni dei 3,6 milioni di italiani che hanno superato gli 80 anni e gli Elandi e gli ultracenterani che sono ben 16.145, saremo anche noi forse protagonisti della prossima saga dell'immortalità? Difficile essere ottimisti. Il futuro è preoccupante. Con la crisi infatti è clorata la spesa a tavola degli italiani che dicono addio alla dieta mediterranea dall'orio di oliva extravergine meno il 10% al pesce meno 13% dalla pasta meno 10% all'ortofrutta meno 3% secondo l'analisi della coldiretti nei primi 6 mesi del 2013. Allarme condivisa dall'associazione italiana di oncologia medica secondo la quale 3 tumori su 10 nel nostro paese sono causate da un'alimentazione errata. Avanti dunque con frutta e verdura, pomodori, pasta e vino e scusate se è poco.